Il dottor Paolo Crepe, lo psichiatra, è stato interrogato sulla sua posizione riguardo alla decisione dei genitori di Filippo Turetta di non incontrare il figlio dopo il suo arresto. Questo avrebbe rappresentato il primo incontro tra padre e figlio. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire tutti i dettagli sulle dichiarazioni di Crepe, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Crepe ha commentato che la scelta dei genitori è comprensibile, considerando la gravità dell'atto commesso dal figlio, ed è normale concedersi del tempo in una situazione emotiva così tumultuosa. I genitori si trovano attualmente nel mezzo di una tempesta emotiva caratterizzata da un profondo disconoscimento nei confronti di un figlio che in precedenza consideravano un modello. Crepe ha fatto riferimento alla dichiarazione pronunciata dal padre del 22enne qualche giorno prima, in cui l'uomo aveva espresso il desiderio che le cose si fossero concluse diversamente per il figlio. Lo psichiatra ha condiviso la sua opinione su questo punto, sottolineando che sperare che il figlio sia deceduto può sembrare una via più semplice nella gestione del lutto rispetto alla complessità di affrontare un processo in tribunale, con tutte le domande e le colpe difficili da pronunciare. Crepe ha evidenziato che, durante un'intervista, è stato chiesto a lui di dare un consiglio ai genitori di Filippo. In risposta, ha consigliato loro di considerare l'opzione di lasciare l'Italia, soprattutto per offrire una vita migliore al loro secondo figlio di 18 anni. Restando in Italia, il giovane sarebbe condannato a vivere sotto il peso costante della vergogna pubblica. Crepe ha sottolineato come i ragazzi e anche i bambini possano essere crudeli nel rendere difficile la vita a coloro che sono coinvolti in tragedie simili. Infine, ha consigliato alla famiglia di tagliare i legami con il loro luogo d'origine e trasferirsi all'estero, ad esempio in Francia, dove il cognome Turetta non evoca immediatamente l'associazione con il tragico evento in cui il ragazzo ha ucciso la sua ex fidanzata. Ha concluso suggerendo che un cambiamento di ambiente potrebbe offrire una prospettiva più positiva per il loro secondo figlio. Tu cosa ne pensi su ciò che ha detto lo psichiatra? Consiglieresti alla famiglia di trasferirsi all'estero? Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.